L'edizione odierna del Messaggero dedica spazio anche alla Serie B con il titolo Pescara, prova a rialzarti Zeman sfide il Brescia all'Adriatico Stiamo crescendo, ma dobbiamo fare meglio in zona gol Per noi non sarà una partita facile La squadra lombarda è molto diversa da quella che abbiamo battuto in Coppa Le parole del Boemo